Questo video riguarda i migliori tre lampade solari da giardino. Il vincitore della qualità è luce solare. Nessun filo e nessuna abilità professionale necessaria. Montare facilmente Sesac Solar Light sul muro con viti o nastro 3M che vengono con il pacchetto. Due sensori aiuta Sesac luce solare LED esterno rilevare umano animale movimento auto più nitida e più veloce e poi altre luce solare LED esterno. Sesac luce solare LED esterno adotta il design impermeabile IP65, fatto di materiale ABS ad alta resistenza agli urti. La luce solare di movimento può resistere a tutti i tipi di tempo terribile. Queste luce solare LED esterno progettate con tre modalità di lavoro, che è la modalità di illuminazione dim costante, la modalità sensore di luce forte e la modalità sensore di movimento. Sesac 218 LED luce solare LED esterno built in 2200 ma batteria ricaricabile agli ioni di litio che la capacità della batteria è superiore a quella di altre luce solare LED esterno. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è il Bailing luci solari. Ogni luce solare da giardino ha una batteria integrata da 600 ma, un design del pannello solare da 4,5 x 5,1 pollici con sensore di luce ad alta efficienza punto più luminoso di altre luci a disco solare punto perfetto per il tuo giardino. Il design impermeabile ad alta resistenza IP65, utilizzando materiale ABS, può isolare l'acqua piovana e lo strato di fuligine. Il sensore di luce sensibile incorporato rileva correttamente la luce, viene caricata automaticamente dai pannelli solari e il tasso di conversione dell'energia raggiunge il 14%. Ogni lampada ha due rivetti, che possono essere installati su un pavimento soleggiato in 15 a 20 secondi. Basta spingere il picco delle luci di inondazione solare nel terreno. Il vincitore del premio è l'aulaia Lanterne Solari. Forma della bottiglia diversa dal mercato, motivo personalizzato, splendido mulino a vento, materiale del tappo della bottiglia aggiornato, non facile da arrugginire e aggiornamento delle luci delle corde a 40 LED. Portano calore al tuo cortile, alla tua camera e al tuo terrazzo. Le lampade solari sono impermeabili. La luce solare raccoglie l'energia solare durante il giorno e la immagazzina nella batteria integrata. Pannello solare alimentato al 100% da energia solare, funge da lanterna. Rispetto al pannello solare da 300 ma sul mercato, lo abbiamo aggiornato con doppi pannelli in cristallo di silicio meno 600 ma. Luciferi Firefly molto popolari. Sii buono per le decorazioni della tua casa. Semplicemente appeso ovunque. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.